Una delegazione di docenti e studenti provenienti da Finlandia, Polonia, Turchia, Germania, Francia e del Liceo Gioberti di Torino è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dai presidenti del Consiglio Mauro Laus e della Giunta Sergio Chiamparino e dall'assessore all'istruzione Gianna Pentenero. La visita al Palazzo del Consiglio è stato uno degli appuntamenti del meeting italiano del progetto Comenius, di cui il Liceo Gioberti è coordinatore per l'Italia.